Vogliamo farci anche noi narratrici della nostra storia, scriveva Dacia Maraini nella prefazione al libro Donne della Repubblica. E le donne hanno dimostrato nel corso del tempo di saper raccontare, trasmettere, riportare fatti, stati d'animo, emozioni, ma anche mode, usanze, tradizioni, più di chiunque altro. Nasce da questa consapevolezza la mostra Madri Silenziose, allestita al Museo della Società per gli Studi Patri di Gallarate e che visitabile tutte le domeniche fino al 23 dicembre, ripercorre il passato proprio attraverso i gesti e gli oggetti della donna, analizzando la sua condizione nell'antichità e puntando i riflettori in modo particolare su tre aspetti, la cosmesi, i gioielli e l'abbigliamento. La mostra è organizzata con la preziosa collaborazione del gruppo archeologico del dopolavoro ferroviario di Gallarate e Domodossola, presieduto da Elisabetta Di Michele, proprio nell'anno in cui celebra il suo bentennale di attività. Ad arricchire l'esposizione, conferenze e laboratori, volti a coinvolgere soprattutto i ragazzi delle scuole. Sono diversi i temi affrontati che indagano la realtà archeologica legata appunto alla femminilità, attraverso i gioielli, attraverso il mondo dei profumi e degli unguenti e di tutto quello che aveva appunto a che vedere con la bellezza. Ad esempio, uno degli oggetti sui quali si è concentrata l'attenzione è lo specchio. In particolare, poi, dobbiamo sottolineare che nell'occasione di questa esposizione è stato restaurato uno specchio etrusco che era conservato presso questo museo e che è esposto per la prima volta durante questo evento, questa iniziativa. Quale immagine di donna emerge dunque da questa mostra? Emerge una figura di una donna comunque ricercata che nel corso dell'antichità ha sempre avuto un ruolo nella società, anche se spesso le fonti tendono magari a lasciarla in secondo piano, ma che ha appunto tutto un universo poco noto che merita di essere indagato e approfondito attraverso iniziative come queste.